E' proprio di ieri una campagna dei Radicali Roma e di altre associazioni intitolata Accogliamoci che prevede appunto la riforma dell'accoglienza ai rifugiati e anche il superamento dei campi Rom. Ora ti chiedo appunto, darai una mano da deputato, da democratico a questa iniziativa che è ovviamente un'iniziativa romana perché sono dei libere che una volta firmate dai cittadini andranno a costituire un dibattito nel Consiglio Comunale di Roma? Ma io sicuramente sul tema dei campi Rom sono d'accordo con questa proposta, quella di superare questi campi e chiuderli ovviamente con una progettualità che non faccia in modo di fargli errori del passato dove si chiude in un posto per poi costruire di fatto una via di transito che diventa un'altra mangiatoia per i soliti noti però sicuramente noi dobbiamo voltare pagina rispetto a un non progetto di integrazione delle comunità Rom e quindi sono assolutamente d'accordo così come sul tema di una strategia sull'accoglienza dei profughi che abbia come parole d'ordine innanzitutto la valorizzazione del futuro del singolo chiedente asilo e quindi non quello di tenere viva una macchina intorno al tema dell'accoglienza e quindi alimentare un business e quindi un'accoglienza finalizzata all'integrazione. Quindi sostengo assolutamente queste due proposte seppur magari possiamo discutere nel dettaglio di alcuni aspetti e dico benvenga a un dibattito vero su questi temi che non sia più ideologico perché noi abbiamo assistito in passato a un eccesso di superficialità mascherato magari con della falsa solidarietà, falso buonismo che però poi abbiamo scoperto oggi molte volte erano anche in una chiave di venire incontro ad alcuni interessi e ad alcuni appetiti come è stato dimostrato. Quindi io credo che sul tema della legalità e del rispetto della legge noi dobbiamo essere assolutamente netti, non consentire che questi temi siano strumentalizzabili da alcune parti politiche ma ritornando a parlare con tutti i cittadini e la nostra forza oggi può essere quella di poterne parlare e discutere anche con i nuovi cittadini italiani magari famiglie e persone impegnate di origine straniera che condividono con noi molte parole d'ordine come quella appunto del chiedere, di vivere in una società dove appunto ci siano pari diritti e doveri per tutti e dove soprattutto nessuno parli più a loro nome. e quindi sono battaglie che secondo me possono essere combattute anche insieme ai tanti Rom che sono già inseriti nella società e che ci confermano che non può essere il destino dei Rom quello dei campi che molte volte è più nella testa di chi ha gestito questi fenomeni negli anni a volte pensando di fare del bene, a volte perché aveva degli interessi dietro questo meccanismo e quindi la migliore smentita anche rispetto al passato è quello di costruire questi percorsi insieme a quelle stesse comunità, a quelle parti buone, a volte anche maggioritarie che hanno voluto integrarsi ma non hanno trovato le porte sbarrate sia per quello che riguarda il tema dei Rom sia per quello che riguarda le persone di origine straniera i chiedenti asilo che magari dopo aver fatto un percorso di sprar, di inserimento nella città oggi sono persone che ormai si sono realizzate nelle nostre comunità